Ben trovati con il TGLIS di Telebari. Sì a 6 sedi per le primarie e allo spostamento delle consultazioni interne dal 24 marzo al 7 aprile, come chiede il PD, con l'unica garanzia della pre-registrazione online dei votanti, sino a 24 ore prima del voto. E quanto comunitato in conferenza stampa dalla Convenzione, il cartello elettorale composto da partiti e movimenti del centro-sinistra, incluso il Movimento 5 Stelle, che appoggia la candidatura di Michele Laforgia, sindaco di Bari, in contraposizione a quella di Vito Leccese, sostenuto dal Partito Democratico. Tra Convenzione e PD, finora sembrava non esserci accordo sull'organizzazione delle primarie. I DEM chiedevano 6 seggi in città e di spostare le consultazioni al 7 aprile. Oggi la Convenzione è andata incontro a queste richieste. Una attività di demolizione che non ha comportato la dispersione di polveri nell'ambiente e che ha permesso il recupero e riciclo del 98,3% del materiale demolito e quanto successo nel cantiere in cui sono stati abbattuti gli immobili delle ex caserme Milano e Capozzi di Bari che faranno spazio al nuovo parco della giustizia. Lo rende noto l'Agenzia del Demanio che entro la prossima estate bandirà l'appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'avvio dei lavori. E adesso le altre notizie del TgLIS. Tra il 2019 e il 2022 in Puglia il numero dei medici di medicina generale si è ridotto del 17,9% mentre la media nazionale della riduzione è pari all'11% ma la situazione è destinata a peggiorare entro il 2026. Sono infatti 928 i medici di famiglia che in questo periodo compiranno 70 anni raggiungendo l'età massima per la pensione. considerando i nuovi ingressi ci sarà comunque un ammanco di 175 unità. A lanciare l'allarme la fondazione Gimbe in un report nazionale. dal 2 maggio prossimo e fino a metà ottobre Bari sarà collegata a Mostar. Il nuovo volo sarà operato dalla compagnia aerea SkyHalps e avrà una frequenza bisettimanale giovedì e domenica. L'avvio di questo nuovo collegamento aereo ha dichiarato il presidente di aeroporti di Puglia Antonio Vasile non solo contribuirà a rafforzare i legami economici, culturali, turistici ma soprattutto religiosi Bari, Mostar, Međugorje e la vicina Sarajevo. La questione di genere è al centro del dibattito politico nazionale e internazionale. Il principio di parità è elemento distintivo dell'evoluzione di un paese e nel nostro caso segna una tappa importante di un percorso politico, culturale e amministrativo iniziato anni fa. E' bene ricordare che la Regione Puglia ha dedicato due obiettivi strategici del suo attuale programma di governo alla parità di genere. Approvare un bilancio di genere significa innanzitutto comunicare in trasparenza le scelte politiche e i risultati degli interventi regionali rinnovando il rapporto di fiducia tra l'ente e la collettività. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Annunciando che nella giornata internazionale della donna la Regione Puglia approverà in giunta il bilancio di genere. E' iniziata l'attività di rimozione dei rifiuti sulle strade statali come era stato chiesto dalla Regione Puglia. Siamo lieti dell'attività di rimozione da parte di ANAS, commenta l'assessora all'ambiente della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio, che ha competenza per la pulizia sulle strade statali e che abbiamo incontrato in più riunioni al fine di sollecitare il ripristino del decoro delle suddette strade. Solo con la collaborazione istituzionale a più livelli si possono raggiungere risultati concreti per il bene della comunità. I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno emesso una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione e porto illegale di armi da fuoco. L'indagine trae origine è da una aggressione subita a novembre del 2020 da una persona interna alle dinamiche associative criminali dopo che era stato minacciato di morte per presunti debiti di natura economica legati alla droga. Tra i destinatari dell'ordinanza compaiono anche i nomi di Antonio Affendi il 33enne ucciso a colpi di pistola in strada a Casarano da Lucio Sardella, killer reo confesso e di Davide Falcone il 35enne ultras del Casarano Calcio fidanzato di Roberta Bertacchi la 26enne trovata impiccata la mattina dello scorso 6 gennaio sempre a Casarano nella sua abitazione. Nel corso di una specifica attività di vigilanza ambientale compiuta dal personale della sezione operativa navale della Guardia di Finanza e del nucleo investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri di Brindisi è stato eseguito il sequestro di un'area di circa 3600 metri quadrati utilizzata come deposito di rifiuti speciali sulla terra. E' stata constatata inoltre la presenza di una idropompa sommersa adibita al travaso delle acque oleose dalle vasche di decantazione al piazzale Attigo con gravi conseguenze per l'ambiente e per la salute. Ancora sangue sulle strade del Tarantino per circostanze ancora in corso di accertamento un'automobile e un furgoncino si sono scontrati sulla statale Sette Appia vicino il centro abitato di Massafra. Tragico il bilancio, un uomo originario di Turi ha perso la vita mentre un'altra persona è stata trasferita in gravissime condizioni al Santissima Annunziata di Taranto sul posto i Carabinieri della Compagnia di Massafra il 118 e i Vigili del Fuoco. Due agenti di polizia sono rimasti feriti durante un servizio di controllo del territorio ieri sera a Cerignola, nel Foggiano. Sulla statale 16 i poliziotti avevano intercettato un furgone e un'auto di grossa cilindrata. Quest'ultima, per sottrarsi ai controlli e fuggire, ha effettuato una manovra improvvisa urtando contro una delle volanti. Il furgone, guidato da un uomo, è stato invece bloccato. I due agenti a bordo dell'auto colpita hanno riportato contusioni giudiquate guaribili tra i 15 e i 30 giorni. E con il TgList è tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie a tutti.